salve amici e amiche apro con una notizia spettacolare oggi se confermata metto le mani avanti perché ripeto non è stata confermata ma si parla di fonti russe che stanno rimbalzando ovunque quindi vi faccio vedere i russi dichiarano che un su 34 è stato abbattuto da un f16 ucraino questa è un po la notizia che volevo subito condividere con voi allora di cosa si tratta intanto dalle notizie che abbiamo ripeto da fonti russe ci dicono che questo su 34 era in volo di missione di bombardamento per sganciare le sue classiche bombe plananti ed è stato abbattuto circa 50 chilometri dal confine ucraino fonti russe quindi al momento non abbiamo ancora nulla da parte ucraina sono se non che hanno rimbalzato la loro stessa notizia quindi vedremo nelle prossime ore cosa verrà detto ok notizia comunque molto importante poi fra l'altro mi collego sempre agli f16 ucraini visto che sto seguendo particolare con particolare attenzione i loro sviluppi c'è un'altra notizia questa più veritiera più confermata voglio dire che mostra forniture per gli f16 ucraini con i nuovi missili aim 9x ok ora di questo ne avevo parlato già nei video precedenti in quanto nelle foto che abbiamo visto fatte dai vari spotters e nelle dichiarazioni ufficiali da parte ucraina si vedevano montati su piloni esterni sempre aim 120b amram e aim 9m queste sono le versioni più vecchie di questi missili quindi questa notizia è importante perché conferma che gli f16 ucraini riceveranno le versioni più nuove dei missili americani quindi se almeno abbiamo la notizia degli m9x si spera che arriveranno anche i 120 c le reticenze da parte di americana sull'utilizzo di queste armi da quello che ho sentito da alcuni analisti americani erano sul fatto che gli americani hanno paura che queste questi missili possano cadere in mano russa e che possano farci delle analisi degli studi dell'ingegneria inversa perché bisogna dirlo aim 9x 120 c oggi hanno un elettronica avanzata hanno delle dei dei sensori di ricerca se parliamo del radarino interno della in 120 e del sensore di ricerca infrarosso della in 9x che sono tarati per certi tipi di oggetti diciamo così ecco quindi è chiaro che averne uno fra le mani la parte russa permetterebbe di sviluppare delle contromisure adeguate per questi missili parliamo sia di contromisure elettroniche che di contromisure fisiche come chaff e flare quindi torniamo alla notiziona di oggi se un su 34 russo è stato battuto da un f16 ucraino la situazione potrebbe essere questa nel senso ipotizziamo che gli aerei russi stavano operando l'aereo russo stava operando al di fuori dello spazio aereo ucraino perché è quello che fanno normalmente e se prendiamo per buona la notizia diffusa dai russi che si trovava a 50 chilometri dallo spazio aereo ucraino quindi una distanza di questo tipo più o meno la classica missione che è un su 34 che lancia le bombe plananti che abbiamo visto in vari video e questa arrivano a portata di lancio lanciano e tornano indietro quindi se l'aereo è stato abbattuto come dicono da un f16 50 chilometri sono nelle corde dei 120b forniti agli f16 infatti sono missili che possono essere tirati a circa 35 miglia di distanza una settantina di chilometri per essere più o meno precisi un'ottantina di chilometri 100 chilometri più o meno il raggio di possibilità come devo dire di di range raggio che può raggiungere un missile di questo tipo quindi se il su 34 è stato abbattuto a una distanza di 50 chilometri dal confine ucraino quello che può essere successo è che l'f16 stava operando praticamente tipo qui sto facendo solo un esempio spaziale ma per mostrarvi le distanze e da questa distanza può aver tirato e colpito il su 34 ucraino che dire spero che la notizia venga confermata perché è una notiziona che dimostra appunto le capacità dell'f16 nel suo ruolo primario che è quello di difesa dello spazio aereo ucraino al momento quindi impiegarlo anche per abbattere i bombardieri russi sarebbe una gran cosa non solo per intercettare droni e missili da crociera quindi vediamo vedremo cosa succede queste prossime ore attendo una conferma da parte ucraina perché ritengo che le fonti russe non siano attendibili però mi fa specie che siano stati loro a dirlo per primi non so vedremo allora passiamo ad altre notizie a proposito ne approfitto prima di iniziare mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale è fondamentale per aiutarmi a crescere così come mettere un like quello aiuta tantissimo la spinta del video stesso la indicizzazione insomma aiuta tanto qui sotto al video trovate tutti i pulsantini di youtube per iscrivervi mettere like sostenermi aiutarmi a continuare a fare questo lavoro allora continuiamo con le notizie la germania ha confermato l'invio di una postazione iris tslm all'ucraina questo è un ottimo progresso se parliamo almeno di difesa dello spazio aereo perché queste postazioni sono il no plus ultra delle della tecnologia europea se parliamo di scudi missilistici così come da parte della repubblica cieca sono state confermate l'invio di 500.000 pezzi di artiglieria da 150 mm per l'ucraina ed è una grande notizia servono questi 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 rifornimenti mi collego al video fatto ieri in cui sciaguratamente ho parlato anche di politica italiana facendo delle osservazioni personali che lasciano il tempo che trovano sono solo dei commenti però ecco vi ho mostrato un video pezzo di calenda che parlava dei danni collaterali russi secondo me con poca cognizione di causa dato che da fonte russa da tre anni quasi arrivano immagini che dimostrano palesemente i crimini di guerra commessi e fra l'altro ne è arrivato uno giusto ieri dove si vede questo drone russo inseguire e colpire dei civili per strada non vi posso mostrare il video ma ve lo passo in descrizione è piuttosto drammatico così odessa ieri è stata bersagliata in un palazzo quattro civili sono caduti 10 feriti poi chiaramente i giornali italiani ne parlano in modo a modo loro non cito la fonte non so neanche da dove siamo a questo blogger su x giovanni martinelli mi aiuta a ricostruire quella che è la narrazione e non si fra l'altro in questo giornale mostrano una mappa del fronte completamente sbagliata che non esiste e odessa non è non è allo stremo assolutamente odessa è fuori dalla situazione come vedete si trova proprio in una zona che non è interessata minimamente dai combattimenti ma comunque è stata presa di mira da missili russi iskander il porto è stato colpito un paio di volte nei giorni scorsi e giusto ieri appunto c'è stato l'ennesimo attacco a civili che poi come dica calenda questi missili non erano destinati a quei civili posso crederci però ecco mi fa un po' specie quando invece questi missili lo sono voglio dire ci sono tanti video che lo dimostrano quando per esempio intere città ucraine vengono rase al suolo e questa immagine satellitare fra l'altro dei satelliti sentinel sono le più aggiornate la vedete tutta questa zona scura si estende su tutto il fronte e questo è quello che vedrebbe un extraterrestre dallo spazio e potrebbe giudicare la razza umana da questo direbbe quanto sono stupidi la follia degli esseri umani infatti come vedete la guerra di questi quasi tre anni ha lasciato un segno sul terreno tutta questa zona scura è perché il terreno è stato butterato da i colpi di artiglieria le mine incendi tutto quello che ne consegue se per esempio zoomiamo andiamo a vedere vule dar ci rendiamo conto che di vule dar restano appunto poche tracce e se andiamo a vedere per esempio voi chask ma così avviene in tante altre città dell'ucraina ci rendiamo conto del concetto di liberazione russa questo è quello che fanno i russi quando intendono liberare l'ucraina proprio la liberano anche dagli edifici quindi passiamo alle notizie dal fronte allora ci sono alcuni cambiamenti importanti nella regione di kursk dove c'è l'avanzamento russo che sta procedendo verso est per quello che può essere visto in due modi diversi da una parte sembra che stiano tagliando gli ucraini in questa sacca viceversa data la presenza fra l'altro di una delle più forti brigate meccanizzate ucraine che è stata inviata in quest'area la 47esima prendo la pagina wikipedia che combatte da da tre anni è stata utilizzata nella battaglia di bakhmut la controffensiva la battaglia di toto macha a divca eccetera quindi la presenza di questa e di altre tre brigate potrebbe significare che in realtà i russi stanno commettendo un errore e gli ucraini potrebbero chiuderli a loro volta in una sacca l'intensità dei combattimenti e delle icone ci mostra quello che sta succedendo non vi posso mostrare i video ma ecco una cosa che possiamo notare è che gli ucraini stanno comunque spingendo a nord in questo momento e in questa direzione quindi sì la situazione è questa ed è piuttosto in divenire seguiremo nei prossimi giorni quello che sta succedendo altri progressi da parte ucraina minimi ci sono a nord di lipsi con questo vettore di spinta vediamo un aggiornamento sulla mappa di mayakosk con questo settore aggiornato a oggi catturato da settore pochi chilometri quadrati scusate altri piccoli progressi nell'area di voi ciasc sono stati fatti qui ne avevo parlato anche nei giorni scorsi e un altro progresso da parte ucraina si segnala nella zona di zaporizia vi mostro cosa sta succedendo qui quest'area attualmente è contesa in poche parole ruota tutto attorno a questo ponte sopra un laghetto che sia una diga una specie di come si chiamano vabbè non mi viene comunque sappiamo almeno questo quello che le riporta anche denis davidov che gli ucraini sono riusciti a creare una sorta di avanzata e probabilmente stanno cercando di creare una testa di ponte qui questo per quanto riguarda i progressi ucraini che fra l'altro non riguardano solo questo da parte russa continuiamo ad assistere al loro tentativo di chiudere questa zona ma al costo di enormi enormi perdite tutte queste icone continuo a dirlo sono mezzi colpiti dai russi dagli ucraini con droni artiglieria o finiscono sulle mine negli ultimi quattro giorni la presenza di tutte queste icone ci indica chiaramente l'intensità dell'attività russa con da parte loro comunque utilizzano droni per ricognizione attacchi stanno monitorando tutto quello che succede nelle retrovie di kurakove e nel frattempo provano a spingere ma la resistenza ucraina fa parecchi danni ecco diciamola così anche nella zona poco a nord di vugledar e per quanto riguarda invece la loro avanzata verso pokrovsk e russi segnalo anche questo riportato da denis stavidov che dobbiamo considerare provvisorie queste informazioni che vediamo sulla mappa cioè è chiaro che stiamo parlando di stime e non è necessariamente detto che se quest'aria diventa più rossa significa una presenza consistente da parte russa perché nel frattempo gli ucraini rispondono su tutta questa linea di rifornimento di avanzata russa comunque gli ucraini infliggono danni parecchi e quindi è da vedere quello che succederà in questi in questi giorni quindi anche qui la situazione è in divenire perché dico questo perché un report da parte russa anche qui mi ricollego alla parte iniziale del video in cui viene detto che su 34 è stato abbattuto da un f16 da parte russa arriva un'informazione abbastanza scioccante nel senso i blogger russi segnali si lamentano ecco denunciano il fatto che spesso gli aggiornamenti geolocalizzati da parte russa delle ricognizioni droniche dei fanti dei soldati vengono esagerati questo comporta poi che l'artiglieria prende riferimenti sbagliati e finisce per colpire le proprie truppe ora prendiamo questa notizia per quello che sono i blogger russi a dirla però ecco se mettiamo insieme pezzi potrebbe tornare utile ricordare che l'altro ieri discord è stato bannato in russia ok discord veniva utilizzato in maniera intensiva dall'esercito russo per condividere video dirette da parte dei filmati dei droni scambiare informazioni attualmente quindi questo potrebbe essere un effetto tangibile di una mancanza di collegamenti e di intelligence passiamo ad altre notizie allora questa è una notizia un po più leggera la dico giusto per sdramatizzare steven seagal come sappiamo è un patito sostenitore di putin anche perché letteralmente scappato dagli stati uniti dal momento in cui è nella lista nera di hollywood cioè nessuno vuole più lavorare con lui è stato ormai dichiarato completamente inetto alla recitazione questo perché nei suoi vari film in passato ha sempre millantato di essere un esperto di arti marziali ma in realtà era solo un violento questo insomma è arrivato attraverso le denunce dei vari stuntman e degli attori con cui ha collaborato in quanto durante le riprese non era capace di simulare i colpi diciamola così poi vabbè altri fatterelli che riguardano sempre la sua carriera non li sto a raccontare però in sostanza ormai steven seagal non è più credibile come attore e infatti proprio è nella lista nera di hollywood poi ultimamente l'abbiamo visto sempre di più apparire in russia sostenitore di putin e ultimamente ha fatto dichiarazioni del tipo che sarebbe pronto a combattere per putin e la russia uno direbbe va bene mandate mandatelo avanti mandatelo al fronte e infatti è arrivata la pubblicazione della sua le suo arruolamento quindi vedremo probabilmente è una scelta come devo dire di propaganda nel senso vogliono in qualche modo far ridere il mondo e sollevare il morale delle truppe in qualche modo allora per quanto riguarda le attività ucraine poi segnalo un attacco alla regione nella regione di luhansk qui vi mostro dove in quest'area pare notizia da confermare ma come sempre arrivano i filmati dai residenti mostrano gli incendi pare sia stato colpito un deposito di carburante nella zona di luhansk mentre invece nella questo video che ve lo passo in descrizione penso che sia il video del giorno cioè non ve lo posso mostrare ma è un deposito di gas o centro di smistamento quello che è di collegamento a grosni che probabilmente questo lo dico perché non ho informazioni precise riguardo probabilmente è stato fatto saltare da un'azione di sabotaggio da eventuali infiltrati ucraini o sabotatori russi non lo sappiamo ma il filmato dell'esplosione è spettacolare tanto che farebbe invidia a michael bay ora per chi non lo conosce michael bay è il regista di film come transformers armageddon lui è veramente un patito dei botti è tipo un napoletano dentro talmente patito dei botti che tutti questi botti nei suoi film non sono in computer grafica la computer grafica la usa per altre cose se invece c'è da fare il botto lui lo vuole fare rigorosamente in analogico quindi questo video ve lo passo in descrizione ci metto la scritta sopra il botto guardatevelo perché fa impressione bene andiamo avanti queste sono appunto le notizie di oggi a proposito degli f16 ucraini con cui ho iniziato vi mostro questa immagine presa da un loro addestramento da un video girato dagli f16 ucraini che mostra il biposto questo qui dovrebbe essere questo è uno è un f16 block 72 con le external le conformano queste sono taniche quindi probabilmente questo video è stato girato in america ecco questo è il biposto quello che vedremo fra poco sono due fotogrammi ripresi proprio dal dal copilota che sta dietro l'operatore ai sistemi ecco e ci mostra questo schermo questo lo schermo sa si stavano addestrando probabilmente negli stati uniti e vediamo appunto come la raffigurazione ci mostra la scala 120 miglia e il copilota ha generato un punto rotta e due punti di interesse probabilmente si stavano addestrando all'attacco al suolo e questo è quanto un'altra cosa questo è il famoso caschetto di cui ho parlato tanto ed è veramente una novità eccezionale per i piloti ucraini grazie a questo mini proiettore che proietta i dati sul casco i piloti ucraini faranno un salto qualitativo tecnologico enorme rispetto ai mig 29 e su 27 che pilotano che hanno ancora una tecnologia degli anni 80 che hanno la prima serie con un radar a scansione meccanica e quando ingaggiano un aereo possono farlo solo guardando avanti con un casco molto semplice mentre il casco dell'f16 che utilizzeranno gli permette di avere una visione a 300 scusate sì quasi a 360 gradi con la proiezione dei dati sul terreno potranno agganciare potranno visualizzare un sacco di informazioni tramite il caschetto e questo è quanto cari amici come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima